Ciao, sono Katia Vaccari e oggi vediamo 5 esercizi total body a corpo libero che faremo assieme. Faremo 30 secondi di esercizio e 10 secondi di recupero. Ti spiegherò ogni singolo esercizio man mano che andremo a farli e poi tu dovrai ripetere il circuito dalle 3 alle 5 volte per avere il massimo dell'efficacia. Passiamo alla pratica, quindi faccio partire il timer, quindi tu non preoccuparti di nulla, fai solo partire il video. Il primo esercizio è uno squat più richiamo del ginocchio, quindi da qui bene il bacino all'indietro, sali e richiamo il ginocchio, porta il gomito verso il ginocchio opposto o il ginocchio verso il gomito. Scendi bene con il bacino e vai a salire, stringi forte addome, vai bene a muoverti con il bacino, è la cosa più importante, scendi in profondità, non avere fretta di finire l'esercizio. Quindi scendo bene profonda e poi salgo, ok? Scendo bene profonda e poi salgo, stringo sempre addome. Secondo esercizio, andiamo a fare un esercizio per le braccia, quindi andremo a fare il tripod alternato, quindi la mano me la metti girata, gomito verso il ginocchio, spingo verso il soffitto, mi metto in linea T, scendo e faccio il cambio, scusa la schiena, spingo, stringo forte addome, da qui porto il gomito e spingo su, stringo forte addome, stringo il gluteo, lavoro bene con il braccio e con tutto il corpo, in realtà con tutta la catena dell'anca, quindi spingo l'anca e spalla, spingo bene l'anca verso l'alto e vado su, ok? Perfetto. Il nostro terzo esercizio è invece un esercizio per l'addominale, per cui andiamo a metterci in plank su avambraccio, quindi gambe distese, stringo forte addome, da qui vado a richiamare il ginocchio verso l'esterno, stringo addome, andiamo a fare un side flex, mi raccomando, la pancia qui è stretta, ok? E vado, inspiro, fuori aria, qua, richiama bene, le spalle sono bene perpendicolari sopra il gomito, ancora, 5 secondi, controlla bene l'esercizio, vai, 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 bene, richiama, perfetto, ottimo. Il nostro quarto, invece, esercizio, andiamo a lavorare con le gambe, quindi schiena giù, ponte gluteo, spingo, gluteo stretto, le braccia le posso portare verso l'alto, stringo il gluteo e contraggo bene in modo attivo, quindi stringo forte con le chiappe, salgo e scendo, ok? Stringo pancia in modo da sostenere bene il core, ancora, salgo, spingo bene su, spingo bene su, fuori aria, salgo, bene, perfetto. Ultimo esercizio, andiamo a lavorare con le gambe distese, le punte verso l'alto, è un esercizio posturale e di tonificazione, quindi gambe tese, richiamo una gamba verso di me e torno in posizione di partenza, fai attenzione che non è questo, ma è tiro, torno in posizione, come se il tallone fosse appoggiato a una parete, inspiro, inspiro, stringi forte l'addome, dovresti sentire bene la parte qui dell'addominale che sta lavorando, abbiamo fatto gli addominali obliqui prima, adesso stiamo facendo gli addominali del resto dell'addome e del core, inspiro, fuori aria e rilasso. Adesso rifai partire il video e ripeti gli esercizi dalle 3 alle 5 volte, questi sono solo alcuni esercizi che sono contenuti nei miei tanti programmi, l'ultimo programma che veramente è uno spettacolo, perché anche le donne che lo stanno facendo sono stracontente, è un mese da wonder che puoi trovare ancora in offerta a 47 euro cliccando il link che ti metto qui. Un abbraccio, un bacione, ciao!